e vi inviteremo quest'anno, ma alla prossima staremo qui a dire quante case siamo riusciti a fare e adesso che tutti quanti ci stiamo a dire, ma poi tutti quanti sappiamo che loro sono delle sue storie di come seguirli ci aspettiamo che poi rispettino e facciano quello che abbiamo digneato e vorrei la riceranza di ringraziare la persona dell'associazione perché sono loro perché dice io ho fatto sentato il film, ma sono loro che lavorano, quindi quattro ragioni, sette giorni su sette tutto l'anno per fare il lavoro che loro vengono, quindi grazie ancora per quello che fate Allora questo è un momento storico importante perché andiamo su un protocollo di intesa e quindi da domani parte il progetto Housing First Noi ne siamo vicini, non lo so Datevi la mano Ecco Signora Grazie Grazie Grazie